Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news. Scopri il futuro dello sport su Planetwin36.news.news. Scena, ormai la scena non esiste più. Ma senza giudizio, andiamo a vedere. Tralasciamo Jamie Tights che dà del ridicolo a Giovanotti per il Jova Beach Party. Gli dice che praticamente è un venduto che va vestito da pirata a fare queste cose. Un pagliaccio comunque, Jamie Tights. L'unica cosa che gli diciamo è di guardarsi allo specchio. Molto semplice, nulla di negativo o positivo. Semplicemente guardati allo specchio e poniti due domande, cerca delle risposte e via. Giovanotti, insomma, lo tralasciamo. Tralasciamo pure il fatto che Rove è stato cacciato. Andiamo a prendere i filoni vari, anche degli editoriali precedenti. C'è uno storytelling di base, andateli a recuperare. Rove che viene cacciato dal palco, praticamente. Dal pubblico è fischiato perché si incazza. Non è l'unico, non è la prima volta che il pubblico fischia, si incazza. Secondo me perché comunque il format dell'andare sul palco con quattro amici che saltano e non offrire una performance artistica ma una sorta di performance coreografica è un format che dopo un po' rompe il cazzo e non sta funzionando più. Ma andiamo al discorso sociale. A questi arresti in una notte. Traffic. Ebbè, non è la prima e non sarà l'ultima volta. Jordan Jeffrey Baby che la settimana prima per fare promo ha fatto un finto video in cui si faceva pisciare addosso. Era del tè, ovviamente. Però è la cosa. A me mi venne da vomitare quando vedi questo finto video dove lui si metteva, si faceva umiliare. Sì, era un, come dici, era fiction. Era come un film. Però, insomma, quando sei un personaggio in un film è differente. Però è comunque il mestiere, no? Alla fine non c'è neanche tutta questa differenza. Se non fosse che l'attore che interpreta te stesso sei proprio tu. E quindi è questo il discorso. E uno potrebbe confonderlo con chi sei perché chi sei traspare da ogni cosa. Non c'è la sceneggiatura. Non c'è... C'è niente. C'è solo la follia. Il delirio. Anche io sono qui a fare delirio. Ma un delirio che deve avere un senso. La differenza tra i ragazzi e chi cerca di fare un intrattenimento sensato che non abbia vittime è che qui c'è di mezzo la pellaccia. E lì ha 17 baby. Un altro che ha perso completamente il controllo. Tre arresti. Due perché hanno preso la bici di un nigeriano e l'hanno buttata in mezzo alle rotaie. Ormai giustamente i carabinieri hanno una certa filosofia. Li prendono via fuori dai coglioni. Sei uno legato al mondo del rap. Sei catalogato come rapper. Perché rapper qui non ce ne sono. Il discorso è questo. E allora io ti do rapina e sequestro. Anche se rubi una bici. La stupidità. Dov'è? Che traffic è uno che ha una fedina penale di merda e con i suoi reati non ha neanche incassato un euro. Cioè non è che dici uno è un delinquente, non sei un criminale. Sei solo un idiota. Con grossi problemi. Ora, l'idiota. Non voglio dire... Non sto diffamando nessuno. Leggete l'idiota di Dostoievski. Andate a vedere un po' la terminologia idiota che cosa vuol dire. Perché a me traffic non solo mi fa simpatia ma mi fa pure tenerezza. Cioè io provo una grande compassione perché è una persona che ha dei problemi mentali palesi a tutti. Non va portato in galera va chiuso in un centro psichiatrico. Sul serio. Si deve fare un lavoro serio perché questo ragazzo se non lo ammortizzi purtroppo è un pazzo fuori di testa. I social l'hanno distrutto del tutto. Jordan Jeffrey Baby un disperato che adesso ha sviluppato una sindrome istrionica folle come tutti i suoi colleghi. Uno che appunto si mostra mentre fanno finta di urinare addosso per avere un po' di hype che poi non porta a niente perché sono numeri minimi bassi anche se ti ripostano pagine grosse è una nicchia piccola quella che segue questa roba qua. Non siamo in America la gente il mainstream si è stufato di questa roba qui perché non è più vera. E lì 17 Baby ha tre canzoni in repertorio tre canzoni non è un artista non c'entra niente con l'arte è un personaggio del web come si poteva essere un personaggio televisivo una volta è un personaggio del web che impazzisce che minaccia che deve dare credibilità a quello che dice e quindi che succede? Che tu nonostante hai un cumulo di reati che ti portano inutili anche questi ripeto non c'è criminalità questo è un altro errore è tutto pompato hai una serie di reati inutili perché poi sono tutte persone attenzione non so Jordan ma di buona famiglia comunque di gente benestante che insomma questo lo fa riflettere non sono più i figli dei poveri a perdere la testa quelli sanno cosa vuol dire essere poveri per questo la testa la usano sono i figli dei ricchi annoiati fuori di testa completamente non sanno che devono fare vogliono dimostrare a loro stessi ai genitori a chissà chi altro quanto valgono questo è il concetto e poi ti ritrovi che hai magari tre anni di condanna in arrivo e fai una cosa che te ne può te ne può portare dieci quindici un tentato omicidio coltellate coltellate a uno sconosciuto solo per fare paura praticamente questo è solo per dare voce e credibilità a a un personaggio che non percepisce cachet che non è nemmeno appunto venduto allo sporco denaro ma che invece ti rovina la vita sei tu che ci rimetti io non non so non so veramente che dire ho spettato a parlare di questi argomenti perché non non me la sento nemmeno appunto di fare una morale di porre giudizi per non dimenticare Simba Larue Baby Touche tutta sta storia voglio solo rispondere a una frase che ha detto Social Boom cioè la scena è tutta in carcere sarebbe vero se questa fosse la scena la scena è tutta in carcere